Si alza il sipario sul 42esimo Rossini Opera Festival che in questa serata di lunedì 9 agosto comincia all'insegna di un perfetto incrocio fra novità e tradizione. La novità è condensata dall'opera Moise et Pharaon che è una delle quattro nuove produzioni in cartellone. La tradizione è sintetizzata dalla regia, le scene e i costumi del 91enne Pierluigi Pizzi, infaticabile protagonista di quasi quattro decenni del festival rossignano che si mette in gioco con una nuova scommessa esordendo la vitrifrigo arena con Giacomo Sagripatti sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del coro del Teatro Ventidio Basso, un Moise et Pharaon già applaudito venerdì nell'anteprima della prova generale. È il debutto di un ROF con tanti spettacoli ben 25 e pochi spettatori ammessi a goderseli. In un festival all'insegna dell'obbligo di Green Pass le normative anti-covid attuali ammettono infatti poco meno di 500 spettatori alla vitrifrigo arena e poco meno di 200 al Teatro Rossini. Teatro che debutterà martedì 10 agosto con la seconda nuova produzione, Il Signor Bruschino in uno spettacolo ideato da Barbe Dusset. Tre giorni di nuove produzioni completate da un altro grande protagonista del ROF come Davide Livermore che mercoledì alla vitrifigo arena porta in scena Elisabetta, regina d'Inghilterra. Alla vitrifigo arena anche lo Stabat Mater, ultima delle quattro nuove produzioni, mentre il Teatro Rossini ospiterà ben otto appuntamenti concertistici oltre al viaggio a Rams realizzato dagli allievi della trentatresima accademia rossiniana Alberto Zedda. In un festival dedicato alla memoria di Graham Vic, quello del 22 agosto sarà invece un finale col botto. Per la prima volta nella storia il ROF ospiterà il Presidente della Repubblica con Sergio Mattarella che sarà infatti in Piazza del Popolo ad assistere al galà Rossini che celebrerà il 25esimo anniversario del debutto pesarese di Juan Diego Flores.